Prosegue il conto alla rovescia per il nuovo ospedale, nel senso che il sindaco Giordani ha promesso che entro l'inizio delle vacanze estive, quindi si presume entro l'inizio di luglio, metterà a disposizione della regione l'area da 520.000 m2 in nodo del contendere, quella zona a Padovest insomma sulla quale sorgerà la struttura e attualmente al centro di questioni legali con banche e proprietari. Dalle promesse però occorre passare davvero e presto ai fatti, lo chiedono i cittadini. Per me è una cosa che si sta veramente perdendo tanto tempo, perché se dal governatore Zaia le cose erano abbastanza chiare, qua si tratta adesso delle varie componenti politiche. Il pericolo è che i padovani si disinteressino della vicenda, il che sarebbe ancora più grave. Ormai ho perso tutte le speranze perché sono troppi cavili, non sono d'accordo su niente, su niente, non lo so insomma, c'è solo da aspettare mesi e basta. Se serve sì, certamente, se è utile, senza dubbio. È la politica che deve decidere e rispondere. Come sempre, sono sempre i politici, la causa dei nostri guai, dei nostri dolori. Noi stiamo dando da giorni la parola ai padovani su questo tema. Scelta la sede, ora è il momento di aprire al più presto i cantieri. Si temporeggia, questo è quello che un po' si ha l'impressione. Non mi sembra che la politica di oggi gli importi molto di quello che pensi i cittadini. Il sindaco deve sbrogliare questa matassa. Io ho fiducia e credo del buon senso del sindaco che dovrebbe prevalere solo da altre componenti politiche che le girano attorno. Per noi ovviamente la priorità rimane l'ascolto dei cittadini e per evitare che venga sempre criticata la politica, o nello specifico la politica locale, su un tema così delicato come l'ospedale, al sindaco non resta che rispondere con i fatti, prima che il conto alla rovescia finisca e la fiducia dei cittadini vada in fumo. Grazie a tutti.